La Camera del Lavoro di Bari, ospite a Parma delle celebrazioni per il 90esimo anniversario delle barricate antifasciste nell'agosto del 1922. Sospesa la mobilità per i 96 lavoratori della Ecoleider di Monopoli, determinante l'esito della Task Force regionale per l'equilogo dell'avvertenza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS